Secondo la Johns Hopkins University, nel mondo sono più di 95 milioni malati di Covid-19 e oltre 2 milioni le vittime. Di queste, oltre la metà arrivano da USA, Brasile, India, Messico e Regno Unito. In questo scenario i paesi europei fanno un nuovo giro di vite. La Germania, ad esempio, proroga il blocco fino al 14 febbraio e rende obbligatorie le mascherine certificate FFP2. In Gran Bretagna si registrano 1.610 morti in 24 ore, un nuovo record dall'inizio della pandemia, e il dato porta a più di 91 mila le vittime complessive. Continua a destare timori la diffusione della variante locale del virus, che risulta più contagiosa. Crescono i morti in 24 ore anche in Italia, dove martedì sono stati 603 in netta crescita rispetto ai 377 del giorno precedente. Con oltre 83 mila vittime, l'Italia resta il secondo paese europeo col tasso più alto e il sesto al mondo. Sebbene il paese da cui tutto ha preso inizio, la Cina, sia stato anche il primo a mettere sotto controllo l'epidemia, lo stesso oggi torna a costruire centri per il trattamento del Covid. Quello di Shan Suang ha 1.700 stanze ed è capace di accogliere un intero villaggio in caso di bisogno. 3 milioni di positivi invece in California, dove la rete ospedaliera deve far fronte ad una pressione finora mai riscontrata. Preoccupa gli esperti la curva dei contagi, che potrebbe ancora crescere, spinta dall'arrivo della variante più aggressiva del virus.